Sarà un'edizione all'insegna della grande musica, ma non solo. È stato svelato il ricco cartellone di eventi per la tredicesima edizione del Mango Music Fest. Quattro giorni di concerti ed appuntamenti da mercoledì 5 a sabato 8 luglio in via Alfieri in zona Tortaia e nel centro storico di Arezzo. Allora si parte dal 5 luglio fino all'8 con un cartellone di primissimo piano, ospiti molto importanti come Salmo, Levante, Fastanio, Altsazen Circus e tanti altri, quindi un livello musicale molto molto importante. Però ci sono anche cartellone di Mango Cult in piazza Grande, sempre nelle stesse date dal 5 all'8 e Arena Eden con gli appuntamenti del cinema, il 4 di 9. Prima questi tipi di iniziative erano interamente sostenute dal pubblico, oggi sono per lo più sostenute dal privato. Questo è un segno di maturità, di crescita di una manifestazione e quando cresce Estra, che è una grande azienda che scommette su importanti manifestazioni, insomma gli stiamo vicino con l'obiettivo di fare crescere ancora di più, perché l'obiettivo nostro è far fare agli aretini eventi per i non aretini. Il Mango è diventato ormai un appuntamento estivo consolidato e quest'anno ha anche vinto il premio del bando dell'assessorato alle politiche giovanili Buono Creatività. India ha dimostrato di rispondere a pieno a quelle che sono le desiderate dell'amministrazione in questo senso, cioè una iniziativa che abbia in questo punto la musica come carattere essenziale, ma che decline la musica in tanti altri aspetti di tipo culturale, quali la letteratura e la cinematografia. Un evento che interessa il centro e la periferia della città, un evento che è attrattivo da un punto di vista ormai nazionale. Numerosi anche gli eventi di anteprime e lancio della manifestazione, tra questi sabato 1 luglio lo speciale Silent Trash Party che si terrà presso il parcheggio Mecenate. Spesso e volentieri questi parcheggi hanno avuto il problema di essere percepiti come distanti dalla città. L'obiettivo nostro è chiamare pubblico in maniera tale per eventi come questi che hanno una capacità attrattiva importante e far capire come il parcheggio sia realmente vicino, quindi viverlo per poi riutilizzarlo quando l'evento non c'è.